Con l'estensione Zanichelli per Classroom, potrai condividere una collezione creata da te sul sito Zanichelli direttamente da Google Classroom. Per prima cosa, installa l'estensione. Vai sul Chrome Web Store, cerca Zanichelli per Classroom, selezionala e clicca su Aggiungi. Poi, su Aggiungi estensione. Ora, entra in una delle tue classi su Classroom e scrivi un messaggio nello stream. Poi, fai clic su Aggiungi e dal menu a tendina scegli Zanichelli. La prima volta che usi l'estensione, dovrai confermare le tue credenziali di Classroom e accettare tutti i permessi che ti vengono richiesti. Si aprirà poi una finestra in cui dovrai inserire le credenziali MyZanichelli. Ricorda, l'account Google e l'account MyZanichelli possono essere diversi. Per esempio, puoi collegare un account Google in cui usi la tua mail istituzionale con un account MyZanichelli in cui usi la tua mail privata. Si aprirà una finestra con le tue collezioni. Seleziona quella che vuoi condividere. Se vuoi, modifica il messaggio. Poi, fai clic su Pubblica. Troverai il messaggio pubblicato nello stream. Se preferisci, puoi allegare i contenuti di collezioni allo stesso modo anche dalla sezione Lavori del corso. Per vedere la collezione, studenti e studentesse dovranno entrare nel corso di Classroom e aprire il link. In questo modo l'accesso è più facile perché potranno accedere direttamente al contenuto senza registrarsi o dover inserire le credenziali MyZanichelli. Collezioni Zanichelli. Crea e condividi la tua lezione in pochi minuti.